Comandante, qual è l'importanza della cooperazione internazionale delle forze di polizia? La cooperazione internazionale è sempre stata importante e oggi è diventata strategica. Siamo in un momento storico molto complesso, uno scenario internazionale difficilissimo, i nostri cittadini sono preoccupati, per certi aspetti sono anche impauriti, per tanti motivi sociali e economici, quindi le forze di polizia, le gendarmerie europee e soprattutto che hanno questa vocazione territoriale e questa militarità, che anche significa una vocazione sociale, devono cooperare, devono trovare delle motivazioni per mettersi assieme, per migliorarsi e soprattutto per dare un servizio di qualità ai cittadini. L'importanza di una formazione comune delle forze di polizia e dei carabinieri, che risultati può dare? Io penso che la formazione sia tutto, la capacità di esprimere una professione nei modi migliori, in modo incisivo, in modo determinato, è chiaramente fondamentale, questo inizia con la formazione, anche io dico poi una formazione costante nel tempo, perché c'è la formazione basica, quando si prende un ragazzo dal mondo civile lo si fa diventare carabiniere, ho visto che siamo oggi in un contesto internazionale, gendarme o una guardia civile. Quindi la formazione significa prepararsi ad adempere i propri doveri, soprattutto ad ascoltare i cittadini e dialogare con i cittadini.